Pensa al tuo passato e al tuo presente. Per ognuno in tutto il mondo questa è un'epoca straordinaria e in qualche modo anche da ricordare. Viviamo in un mondo in totale costante trasformazione. Il luogo in cui lavoriamo cambia a continuazione, così come il clima quest'ottobre e novembre 2022 ce lo dimostra pieno e non è una cosa che fa rallegrare. Le organizzazioni e le professionalità che ne fanno parte sono in costante cambiamento, così come l'educazione, l'apprendimento e le scuole corrono per rinnovarsi e stare al passo con quello che accade. La famiglia, questo golem millenario che è stato il fulcro della coesione sociale non è più il totem di stabilità che è sempre stato storicamente e la democrazia viene costantemente ridefinita. Le nostre aspettative personali sono diverse da quelle dei nostri padri e addirittura dalle nostre di soli cinque anni fa. Come specie non siamo fatti per reggere questo grado di stravolgimento e anche se siamo incredibilmente adattabili quando costretti a esserlo preferiamo la stabilità e qua sta il punto. Questo flusso di totale cambiamento costante costituisce la nostra nuova normalità e alla nuova normalità non importa nulla se siamo preparati o no, se ci piace o no, se preferiamo la stabilità oppure no. Questa nuova realtà richiede uno sforzo a tutti quanti perché all'onda del surfer non puoi chiedere di essere meno alta o meno potente. All'onda dell'oceano non puoi chiedere nulla, puoi solo tentare di cavalcarla imparando ad avere equilibrio cadendo e facendo tante 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 prove. Rock and roll!